Er leone riconoscente Nel deserto dell'Africa un leone che gli era entrato un ago drento al piede chiamò un tenente per l'operazione Bravo, gli disse dopo, io te ringrazio vedrai che te sarò riconoscente da avermi liberato da sto strazio qual è il pensiere tuo? D'essere promosso? e beh, se io posso te darò una mano e in quella notte stessa mantenne la promessa più meglio di un cristiano ritornò dal tenente e disse amico, la promozione è certa e te lo dico perché me son magnate al capitano